da inizio anno il fuzzimib assegnato una delle migliori performance tra i listini azionari mondiali riportandosi su livelli di resistenza importanti positivo nulla da dire ma attenzione perché rimangono diversi fattori di incertezza che potrebbero impattare su inflazione e a cascata sulle politiche monetarie delle banche centrali generando dunque ulteriore volatilità sui mercati finanziari in un contesto dunque ancora incerto il certificato intelligente di bmpparibà può rappresentare un'ottima soluzione di investimento parliamo in particolare del memory cash collect con look back che punta sul basket world stove composto da tre eccellenze italiani nexi pirelli e unicredit la grande novità riguarda il processo di determinazione di strike e barriere questi verranno fissati il 31 marzo 2023 in funzione dei minimi fatti segnare dai tre sottostanti nel periodo compreso tra l'emissione e il 31 marzo appunto i minimi diventeranno i tre strike dei sottostanti da cui verrà poi calcolata la barriera al 60 per cento utile ovviamente sia per ottenere i premi che a scadenza per il rimborso del capitale il certificato è generoso anche dal lato dei rendimenti proponendo dei premi trimestrali con memoria del 3,5 per cento per un totale annuo del 14 per cento in virtù del meccanismo di look back il primo premio pagato ad aprile sarà incondizionato il certificato vanta la possibilità di autocolla a partire da dicembre 2023 e scade a dicembre 2025 come tutti i certificati invece il prodotto espone al rischio emittente quindi come sempre si consiglia la lettura attenta del kid e vi invitiamo a consultare il nostro sito dove potete trovare un approfondimento dedicato grazie a tutti Grazie per la visione!